Crisan e Lisa. Chi è abbandonato? Da quando aveva vissuto con lui in una capanna, l'estate dopo che Jobs si era diplomato al liceo, Crisan Brennan aveva continuato a entrare e uscire dalla sua vita. Quando nel 1974 Jobs era tornato dall'India, avevano passato del tempo insieme nella comune agricola di Robert Friedland. Steve mi invitò a raggiungerlo, ricorda Crisan. Eravamo giovani, sereni, liberi. C'era un'energia all'all one far che mi arrivava al cuore. Quando tornarono a Los Altos, la loro relazione divenne quasi solo di amicizia. Lui viveva a casa e lavorava all'Atari, lei aveva un appartamentino e passava molte ore al centro zen di Coburn Kino. All'inizio del 1975, Crisan iniziò una relazione con Greg Calhoun, un loro comune amico. Lei stava con Greg, ma ogni tanto tornava da Steve, ricorda Elizabeth Holmes. All'epoca quasi tutti facevano così, si stava ora con un partner, ora con un altro. Non dimentichiamo che erano gli anni settanta. Calhoun era stato a Reed con Jobs, Friedland, Kotki e la Holmes. Come gli altri, si era molto interessato di filosofia orientale e dopo aver abbandonato il Reed, trovò la sua strada nella comune agricola di Friedland. Si trasferì in un pollaio di due metri e mezzo per sei che trasformò in casetta, sollevandolo su blocchi di calcestruzzo e costruendovi dentro un soppalco per dormire. Nella primavera del 1975, la Brennan si trasferì nel pollaio con Calhoun e l'anno dopo decisero di fare un pellegrinaggio in India. Jobs consigliò a Calhoun di non portarsi dietro Crisan, che, diceva, avrebbe interferito nella sua ricerca spirituale, ma i due partirono lo stesso. Ero rimasta così colpita da quello che era accaduto a Steve nel suo viaggio in India, che volevo andarci anch'io, ricorda lei. Fu un viaggio impegnativo, che iniziò nel marzo del 1976 e durò quasi un anno. A un certo punto esaurirono i soldi e allora Calhoun andò in autostop fino in Iran, dove a Tehran si mise a insegnare inglese. La Brennan invece rimase in India e quando Calhoun ebbe terminato il suo periodo di insegnamento fecero di nuovo l'autostop, dandosi appuntamento a metà strada in Afghanistan. Il mondo era assai diverso, allora. Dopo un po', la loro relazione si logorò e tornarono dall'India separatamente. Nell'estate del 1977, la Brennan tornò allo Saltos, dove visse per qualche tempo in una tenda nel giardino del centro zen di Kobunkino. All'epoca Jobs aveva lasciato la casa dei genitori e aveva preso in affitto con Daniel Kocktki per 600 dollari al mese, una casa stile ranch, alla periferia di Copertino. Era una strana scena vedere quegli hippie libertari vivere in una casa colonica che avevano ribattezzato Rancho Suburbia. Era una casa con quattro camere da letto e ogni tanto ne davamo in affitto una a ogni sorta di persona stravagante, tra cui per qualche tempo una spoglierellista, ricorda Jobs. Kocktki non riusciva a capire perché Jobs non si fosse comprato una casa propria, dato che all'epoca avrebbe potuto benissimo permettersela. Credo volesse semplicemente avere qualcuno con cui dividere la casa, questo è il pensiero di Kocktki. Anche se intratteneva con Jobs solo una relazione intermittente, la Brennan presto si trasferì a sua volta nella casa stile ranch. Questo comportò delle riorganizzazioni logistiche degne di un apocade. L'abitazione aveva due camere da letto grandi e due piccole. Come era prevedibile, Jobs requisì la più grande e la Brennan, dato che in realtà non conviveva con lui, si appropriò dell'altra leggermente meno ampia. Le due stanze di mezzo andavano bene per dei bambini e non volevo né l'una né l'altra, per cui mi spostai in soggiorno, dove dormivo su una stuoia di gomma piuma, dice Kocktki. Trasformarono una delle stanze più piccole in aree dedicate alla meditazione e all'assunzione di acido, come la soffitta che avevano utilizzato a Reed. La camera era in gombra del polistirolo delle scatole Apple. I bambini del quartiere venivano da noi, noi li gettavamo in mezzo al polistirolo e loro si divertivano un mondo, ricorda Kocktki. Ma poi Chrisan portò a casa dei gatti che pisciarono sul polistirolo e dovemmo buttare via tutto. Vivendo nella stessa casa, a volte Chrisan e Steve sentivano riaccendersi l'antica attrazione e dopo qualche mese lei si accorsi di aspettare un figlio. Prima che rimanessi incinta, dice, Steve e io ci eravamo presi e lasciati varie volte nell'arco di cinque anni. Non riuscivamo a stare insieme e non riuscivamo a stare lontani. Quando il giorno di ringraziamento del 1977 Greg Calhoun arrivò in autostop dal Colorado a Cupertino, la Brenna gli viene la notizia. Steve e io ci eravamo rimessi insieme e sono rimasta incinta, ma adesso abbiamo ricominciato con l'altalena del prenderci e lasciarci e non so cosa fare, disse a Greg. Calhoun notò che Jobs era distaccato da quanto gli stava accadendo intorno. Cercò perfino di convincere Calhoun a trasferirsi da loro e andare a lavorare all'Apple. Steve non parlava mai con Chrisan della gravidanza, ricorda Calhoun. In certi momenti sembrava provare un grande interesse per te, in altri un totale disinteresse. C'era un lato terribilmente freddo in lui. A volte quando Jobs non voleva affrontare una cosa che lo distraeva, semplicemente la ignorava, come se avesse potuto escluderla dalla propria vita con la sola forza della volontà. In certe circostanze era capace di distorcere la realtà non solo con gli altri, ma anche con se stesso. Nel caso della gravidanza della Brennan si limitò a scacciarla dalla propria mente. Quando qualcuno lo metteva di fronte alla sua responsabilità, diceva che non poteva sapere se era realmente il padre, benché ammettessi di aver fatto l'amore con lei negli ultimi mesi. Non ero sicuro che fosse figlio mio, perché ero pressoché certo di non essere stato l'unico suo compagno diretto, mi ha detto a distanza di anni. Lei e io non stavamo nemmeno più insieme quando rimase incinta, si limitava a occupare una stanza della nostra casa. La Brennan non aveva dubbi che Jobs fosse il padre, in quel periodo non aveva avuto rapporti né con Greg né con altri uomini. Jobs mentiva a se stesso o non sapeva di essere il padre? Credo non avesse accesso a quella parte di cervello o all'idea di essere responsabile, ipotizza Kotki. Elizabeth Holmes è d'accordo, prese in considerazione l'idea di essere il padre e quella di non esserlo, e optò per la seconda alternativa. Aveva altri piani per la sua vita. Non si parlò di matrimonio. Sapevo che non era la persona che desideravo sposare, che non saremmo mai stati felici, che il ligame non sarebbe durato a lungo, disse Jobs anni dopo. Ero assolutamente favorevole all'aborto, ma lei non sapeva cosa fare. Ci pensò a lunghe decise di non abortire, o forse non ha mai realmente decisa. Credo che il tempo abbia deciso per lei. La Brennan sostiene di avere scelto conscientemente di avere il figlio. Steve mi disse che era favorevole all'aborto, ma non esercitò pressioni in quel senso. Particolare e curioso, considerato il suo background, Steve avversò decisamente qualsiasi soluzione alternativa. Mi scoraggiò fortemente dal dare il bambino in adozione, dice la Brennan. C'era un'inquietante ironia nella situazione. Jobs e la Brennan avevano entrambi i 23 anni, la stessa età di Joan Schirble e Abdullah Fatt e Giandali, quando avevano avuto Jobs. All'epoca lui non aveva ancora rintracciato i suoi genitori naturali, ma i genitori adottivi gli avevano raccontato parte della storia. Allora non sapevo della coincidenza dell'età, per cui essa non influì sulle mie discussioni con Crisan, disse in seguito Jobs. Nega di aver seguito in qualche modo le orme del padre naturale, il quale aveva rifiutato a 23 anni di affrontare la realtà o la responsabilità, ma ammette che il paradossale riproporsi di antiche circostanze fa riflettere. Quando scoprì che Joan era rimasta incinta di me a 23 anni, pensai, ma no. La relazione tra Jobs e Crisan presto si deteriorò. Crisan aveva assunto un atteggiamento vittimistico e diceva che Steve e io ci qualizzavamo contro di lei, ricorda Kotki. Steve si limitava a ridere e non la prendeva sul serio. Come lei stessa avrebbe ammesso in seguito, la Brennan non aveva una grande stabilità emotiva. Si mise a rompere piatti, lanciare in aria oggetti, sfasciare la casa e scrivere parole o scene sul muro con il carboncino. Diceva che Jobs continuava a provocarla con la sua insensibilità. Era un essere illuminato, ma era anche crudele, ricorda. Una strana combinazione. Kotki era preso tra due fuochi. Daniel non aveva il DNA della spietatezza, per cui il comportamento di Steve suscitava in lui reazioni alterne. Ora, diceva, Steve non ti tratta bene. Ora si qualizzava con lui deridendomi, dice la Brennan. Robert Friedland arrivò in suo soccorso. Seppe che ero incinta e mi invitò ad andare a partorire nella sua comune agricola, continua la Brennan. E così feci, Elizabeth Holmes e altri amici che vivevano ancora là, trovarono una levatrice dell'Oregon che la aiutò nel parto. Il 17 maggio 1978, Christian partorì una bambina. Tre giorni dopo, Jobs volò da lei e dalla piccola per stare loro vicino e aiutare a scegliere il nome. Era uso della comune dare ai bambini nomi della spiritualità orientale, ma Jobs disse che la bambina era nata in America e doveva avere un nome adatto al paese. La Brennan fu d'accordo. La chiamarono Lisa Nicole e il cognome restò Brennan perché Jobs non le die del proprio. Poi lui tornò a lavorare all'Apple. Non voleva avere niente a che fare con lei o con me, dice la Brennan. Madre e figlia si trasferirono in una casupola fatiscente nel cortile posteriore di una casa di Mello Park. Vivevano del sussidio sociale perché la Brennan non se la sentiva di fare causa a Jobs per avere gli alimenti. Alla fine la contea di San Matteo citò Jobs in giudizio per dimostrare che era lui il padre e che doveva assumersi la responsabilità del mantenimento della figlia. In un primo tempo Jobs si preparò a dare battaglia legale. I suoi avvocati volevano che Kotki testimoniasse di non aver mai visto i due a letto insieme e cercarono di accumulare prove del fatto che la Brennan era andata a letto con altri uomini. A un certo punto gli urla il telefono, sai che non è vero, ricorda lei. Intendeva trascinarmi in tribunale con la bambina per cercare di dimostrare che era una puttana e che il padre poteva essere chiunque. Un anno dopo la nascita di Lisa, Jobs accettò di sottoporsi il test del DNA per stabilire la paternità. La famiglia Brennan se ne stupì, ma Jobs sapeva che l'Apple si sarebbe presto quotata in borsa e decise che era meglio risolvere il problema prima che ciò avvenisse. I test del DNA erano una novità e quello cui Jobs si sottopose veniva effettuato all'Università della California a Los Angeles. Avevo letto del test del DNA ed ero contento di sottopormici per sistemare una volta per tutte la faccenda, dice. I risultati furono abbastanza eloquenti. Le probabilità di paternità sono del 94,41%, diceva il referto. Le corti della California ordinarono a Jobs di cominciare a pagare 385 dollari al mese di alimenti, firmare un accordo di riconoscimento di paternità e rimborsare alla contea i 5.856 dollari da essa spesi in sussidi sociali. Gli fu concesso il diritto di fare visita alla figlia, ma lui per un pezzo non lo esercitò. Anche in quel caso mostrò la tendenza a deformare la realtà intorno a lui. Alla fine al consiglio di amministrazione ci disse della bambina, ma continuò a sostenere che c'erano forti probabilità che non fosse il padre, ricorda Arthur Rock. Era un vero delirio. Jobs disse a un giornalista di Time, Michael Moritz, che bastava esaminare le statistiche per rendersi conto di come il 28% della popolazione maschile degli Stati Uniti potesse essere il padre. Era un'osservazione non solo falsa, ma bizzarra. Quel che è peggio, quando in seguito Chris seppe di quel commento, credette erroneamente che Jobs avesse inteso dire, iperbolicamente, che sarebbe potuta benissimo andare a letto con il 28% dei maschi americani. Cercava di dipingermi come una sgualdrina, una puttana, dice. Mi incolò addosso l'etichetta di puttana per non assumersi le sue responsabilità. A distanza di anni, Jobs ha provato rimorso per il suo comportamento, una delle pochissime circostanze della sua vita in cui ha mostrato di rammaricarsi. Avrei voluto gestire le cose in maniera diversa. All'epoca non mi vedevo come padre, per cui non affrontai la situazione. Ma quando i risultati del test dimostrarono che era mia figlia, non è vero che ne dubitai. Accettai di mantenere la finalità di 18 anni e diedi del denaro anche a Crisnan. Trovai una casa a palo alto e la feci sistemare per chi ci abitassero gratis madre e figlia. La madre le trovò delle ottime scuole che io pagai. Cercai di fare la cosa giusta, ma se potessi tornare indietro, mi comporterei meglio. Quando la controversa legale fu risolta, Jobs continuò la sua vita, maturando sotto alcuni aspetti, sebbene non tutti. Lasciò perdere le droghe, smise di essere rigorosamente vegano e passò sempre meno tempo nei ritiri zen. Cominciò a farsi un taglio di capelli elegante e a comprare abiti e camicie da Wilkes Bashford, l'esclusivo negozio di abbigliamento maschile di San Francisco. Infine iniziò una relazione seria con una delle dipendenti di Regis McKenna, una bella donna per metà polacca e per metà polinesiana di nome Barbara Jasinski. Certo, c'era ancora in lui una vena infantile ribelle. Insieme con Jasinski e Kotki amava fare il bagno nudo nel lago Feld, a fianco dell'Interstatale 280 vicino a Stanford, e comprò una motocicletta BMW R62 del 1966, al cui manubrio appese fiocchi arancioni. Continuava sempre a essere un impertinente. Trattava dall'alto in basso le cameriere e spesso rimandava indietro i piatti dicendo che facevano schifo. Alla prima festa aziendale di Halloween, nel 1979, si vestì con una tunica da Gesù Cristo, un atto che a lui dovette sembrare di giocosa autoreonia, ma che fece storcere il naso a parecchia gente. Anche i primi accenni di una vita domestica normale presentavano lati bizzarri. Comprò una bella casa sulle colline di Los Gatos che abbellì con un quadro di Maxfield Parrish, una macchina del caffè Brown e dei coltelli Henkel. Ma poiché era alquanto ossessivo riguardo alla scelta dell'arredo, la casa restò pressoché vuota, senza letti né sedie né divani. Invece la camera da letto aveva al centro un materasso, due foto incorniciate, una di Einstein e una di Maharaji e sul pavimento un Apple II.